con 45 di vita ok facciamo così c'è qualcosa da mangiare bacche morsel morsel adesso li cuoce così vediamo se si riparte da capo la durabilità allora mettiamoci uno di erba perfetto sì ok quindi vi conviene ragazzi per raddoppiare il tempo di utilizzo del cibo vi conviene tenervelo fino a quando non sta per consumarsi quando diventa arancione la barra lo tenete normale quando diventa arancione lo cuocete ovviamente se è destinato alla consumazione altrimenti mangiatevelo subito oppure cucinatelo subito che comunque quando cambia di aspetto o lo cucinate o lo unite ad altri e fate una ricetta comunque l'indicatore si resetterà e questo raddoppia ovviamente la durata del cibo abbiamo anche dei semi li mettiamo nel frigorifero perché per ora non posso mettenermeli nell'inventario dato che si rovinano però non posso neanche andare in giro senza cibo quindi porterò dietro sette bacche cotte aggiungerei perché mo le cuocio tanto le bacche crude non servono che anche se volessi fare quel fistful of jam mi servirebbero comunque le bacche cotte quindi in ogni caso andiamo a vedere cosa c'è di qua delle cose che vorrei trovare sono due o i talbird o i bufali preferisco prima i bufali così prendo un po' di merda e possono iniziare a fare le fattorie qui sono nel frattempo fra tre giorni la barbata aha bufali dai mi ci hai fatto crede eppure la savana nella savana ci sono i bufali ci sono i bufali per favore i bufali oh eccoli a posto cavolo cavolo sono in in calore sì però sparate la naga cagata eh anche se siete in calore in calore ah vedi ok quello è l'indicatore che sono in calore io mi faccio i cazzi miei ah vedi c'hanno il culo rosso e vanno in calore merda c'ho così scusami scusami sono lontano sto lontano mi sto mi tengo lontano mi tengo lontano calmi calmi calmissimi sono qui solo per la vostra merda non devo prendere chissà che cosa quando ci vuole per fare la turbo farm sei giustamente c'hanno cinque non vorrei rischiare la vita perché i bufali sono veramente forti andiamo a vedere qui su se c'è una cagata lasciata così in giro dai che palle una cagata una una merda mi serve una sola uno dice te ne serve uno sei allora ci torni dopo me ne serve una così almeno ne faccio una di farm di turbo farm invece no nulla no nulla al cavolo io adesso ce la faccio andò a prendere una merda per forza costo di tuffarmi sotto i bufali rio wilson correndo la merda e scappa fortissimo i bufali oh ok si però ho capito che siete siete in calore eh ma la madonna sono così incazzati i bufali che se la prendono pure con gli animali ok questo mi potrebbe tornare utile eh ho capito ho capito siete mega in calore non vi preoccupate adesso torno in base dato che c'ho sei di merda oh Chester ma ti dovrei chiamare Gianni Morandi forse mangi la merda oh 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 come sono divertente eccolo là the snake is getting late eh you need to make a fire eh io non lo voglio fare il fuoco va bene mangio le bacche va bene ti piace così ti piace sta cosa vedi come sono ribella io faccio quello che il contrario di quello che mi dici ha detto che dove fa un fuoco io me ne sbatto grazie per i semi allora qui eh la madonna sono ricresciute le bacche o non le avevo proprio viste mi sa che non le avevo proprio viste dai dai lo so che sta per uscire lo so che sta per uscire niente ok niente vabbè meglio così dov'è che sta ah l'avevo superato ok allora ci sono dei fiori che mi stanno sui coglioni quindi adesso li prendiamo tutti e li togliamo dalle palle ma no volevo prendere il fiore madonna che palle it fiori fiori semi grazie mangiamoci di sti fiori wow fanno cacare i fiori Wilson si risponditi si allora che cavolo dovevo ok c'ho sei di merda facciamoci una turbo farm ok perché no ah vabbè la la merda merda oddio che palle no 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 non voglio devo fare una bella allora io mo faccio così allora e vaffanculo come guatto non c'è un cazzo sto stronzo di Chester io c'ho un mattone non si può rompe va bene va bene comunque eh vabbè semi in volontà 34 2 c'ho un fistful of jam di qua che c'è nulla ah ok importante è saperlo qualcuno li potrebbe pure cuocere mi cuocio poi vado vado a prendere la non so hungry ti sto cucinando a posto stai calmo guarda quanti diciamo così eh i semi danno abbastanza dato che ce ne sono a volontà forse è meglio concentrarci sui 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 boh boh io oggi c'ho i problemi mi si inciampa la lingua non lo so perché andiamo a prendere questa cazzo di ah piccone con 9 vabbè lo buttiamo e ne compriamo uno nuovo compriamo uno nuovo e creiamo uno nuovo ah che palla c'è solo la pala vedi l'accetta il piccone di doro ancora non lo sblocco non fa niente ci dovrebbero mettere una mount o salire sul bufalo oppure le scarpe della velocità oppure il cappello di flash non lo so qualcosa che mi permetta di muovermi più velocemente perché i mondi non è che sono tutto sto piccolo ok che sono dei cerchi collegati da strade però sono comunque lunghe da percorrere se io devo andare dall'altra parte che palle ma poi questa è la corsa la corsa è più veloce di così è una corsa in generale dico è molto più veloce di così io adesso faccio un casino prendo tutte le tutte le rocce tutte non ce ne lascio una e al frattempo però devo creare uno straw roll qui c'è anche un seed ok allora all'attacco vai ora colgo tutto dopo prima rompo che c'è ok ma porco ok ok per fortuna ora hanno scogitato un modo per far ricreare le pietre perché i bufali ok quando li ammazzi questi si riproducono come uno schifo in quel modo ovviamente non hanno ancora implementato il cucciolo di bufalo che deve essere una cosa fantastica a mio avviso ma comunque 40 quindi perfetto 4 di d'oro è un po' pochino 4 d'oro infatti non capisco forse ci sono di più nelle queste rocce piccole che nelle rocce grosse non sto scendo più ecco vedi si 40 vieni solo dove una rocce e mi si è finita un'altra non c'è verso di prendere un po' di e chiuditi come le rombo tutte ve l'ho già detto così magari vediamo se ci sono se hanno trovato un modo di far ricreare le pietre avevo letto un utente sul forum aveva chiesto aveva dato un'idea per far si che ritornino ah vedi 39 per far si che ritornino le pietre dopo averle distrutte tutte facevano che tipo arrivano meteorite si schiantava e creava le pietre random magari questo fenomeno comunque random ma che inizia questa casualità dopo che hai finito tutte le pietre ah eh mi si è rotta l'altra volta sta cazzo vabbè basta così dai torniamo a casa iiii corri corri cester oddio corri ti però to corri oh mio dio no non ce lo faremo mai mai e però perché al giorno eh vabbè i semi là donna che palle ci sono ecco perché arrivano gli uccelli e si posano sempre vicino a me quando sto in strada perché probabilmente il mare non è un un posto dove possono spawnare dato che questa alla fine è strada è comunque terreno praticabile eh se devono spawnare degli uccelli spawnano comunque in un piccolo raggio ecco perché mi spawnano tutti intorno vedi quindi secondo me se volete prendere un bel po' di semi dovete rimanere qui in questa strada cioè in una in una strada lunga vi mettete al centro e aspettate gli uccelli nasceranno sembra comunque dove c'è il vostro il vostro campo visivo quindi se rimanete lì vi ricaricate di semi sono piuttosto sicuro magari dopo proviamo poi 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 allora facciamo che accendiamo il fuoco e poi facciamo i semi 4 3 2 1 ok sono dei ok altri semi tu lasci semi no vabbè non fai niente allora che dovevo fare ok questo è fertilizzata vediamo su dovrebbe in teoria seguendo le istruzioni plant ok si inizio a prendere forma il nostro piccolo campetto allora vorrei fare anche una tenda in modo tale da essere pronto a cambiare subito da 3 corde ok non posso farle perfetto yay avangulo allora giorno 15 Wilson avrà la barba potremmo fare le mitt effigi però dobbiamo prendere dei pig dobbiamo andare dai pig ucciderli oppure andare dai dai bufali e ucciderne uno anche se la vedo dura preferisco mandare uccidere i pig si fa prima si dai uccidiamo i pig e dopodichè ecco in modo tale che posso pure droppare un culo e posso crearmi il ah vabbè fammi mangiare posso crearmi l'elmetto quindi sono un bel po' di cose da fare dobbiamo creare la tenda fare la mitt effigi andare a trovare a prendere la merda per fare le turbo farm eccetera evitare di far morire cester evitare di morire prima di aver fatto la mitt effigi anche dopo e cercare di che devo fare ah devo fare catturare un uccellino e metterle dentro la gabbia quindi troppe cose ci stanno da fare però per questo gameplay let's play è tutto un saluto da Freakbuying se ricordatevi di scrivere alla pagina facebook mettere mi piace ovviamente oppure iscrivervi al forum o al sito di Don't Starve Italia che è la la prima community italiana su Don't Starve dove io e altre persone amministriamo e vi diamo una mano parliamo con voi e anche voi spesso ci aiutate con dritte e accorgimenti quindi per questo video è veramente tutto un saluto da Freakbuying da Wilson e da Chester e arrivederci al prossimo episodio ciao 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 ciao